Alghero in grande spolvero per le festività natalizie di fine d'anno, con MES che è un MES attivato dalla Fondazione Meta in collaborazione con l'Assessorato Comunale della Cultura. Una fita programmazione per l'intero periodo in cui all'interno della programmazione si insinua l'installazione di Antonio Marras dal suggestivo titolo Porto Dentro. Il progetto architettonico realizzato con Renata Fiamma si rifà al rito della comunità cittadina, quando in tempi non lontanissimi, in occasione delle violente mareggiate di maestrale, trasportava le spagnolette e i gozzi dei pescatori al riparo a terra. Le vere latine, le barche dei marinai come Raffaelina, Gloria, Barcelloneta, Valverde e Pietruccia, che adesso riparano sicura all'interno delle mura cittadine, venivano condotte dentro, anche attraverso Porto Salve, nella piazza civica. La comunità dei pescatori e tutta la marineria si raccoglieva ed indaffaravano le attività a terra proprio intorno al rito di portare dentro. Ora come allora, l'intento è quello di mobilitare tutta la comunità algherese intorno al salato storico della città. Porto dentro non solo un'installazione dunque da ammirare, ma la calamita per l'impegno di un'intera comunità ha cominciato a portare dentro le barche e ha finito, come l'intenzione dell'ideatore, per portare dentro le persone. E' il bello del Natale, questo piccolo miracolo in una città vestita a festa con le luci natalizie, che rendono questa meta tipicamente estiva per tanti turisti, ancora più suggestiva anche con le temperature e la luce tipica di questa stagione.